Tutte le aziende di rocce ornamentali cercano qualità e innovazione. Invelope Mais è specializzata nella vendita di masse e nell'incapsulamento di blocchi esotici ed è ora anche distributore di resina epossidica su tutto il territorio nazionale. La nostra missione è consegnare prodotti e servizi con un'eccellenza di qualità. Envelope Mais lavora con una formula esclusiva che contiene additivi che garantiscono una lucentezza molto superiore. La qualità di cui il tuo materiale ha bisogno per avere un grande elemento distintivo, solo Envelope Mais lo possiede e con una novità. L'incapsulamento sottovuoto nel sistema Golden Block Mais. Accedi ai nostri social media. Chiocciola Envelope Mais o chiamai il Più 55 28 999 1 0 trattino 6 8 6 8 Byه vi manos ammatoAS! Il risultato del risultato del risultato del risultato del risultato.